Conflitti, risentimento, ovviamente una persona normale dopo un po' li manda a cagare, insomma. Diciamo che non è ancora chiaro cosa sia dovuto, io ho studiato un po' cosa sia dovuto a questo senso di entitlement del narcisista, qualcuno ne parla come il risultato di una combinazione di fattori genetici, ambientali e relazionali, ma tanto loro non andranno mai in terapia fondamentalmente, quindi non cadere in questo problema, assolutamente non devi cadere in questa situazione. Quindi questo è un punto fondamentale, comprava come una forsennata anche robaccia perché firmata, non sappiamo di chi parlava, la nostra Patrizia Perotti, però hanno un po' queste caratteristiche.